Estate Canturina, la notte in bianco. Questa sera cena in bianco su queste tavolate che potete trovare in via Dante, fino ad attraversare Piazza Garibaldi e ad arrivare in via Matteotti. Durante la serata è possibile donare a cartellino rosso alla SLA. Cartellino rosso alla SLA, con noi c'è il dottor Paddeo. Buonasera a tutti, una bellissima serata. Cartellino rosso alla SLA, ringrazio l'assessore Gigi, il cittaco, il comune. Stasera è un'iniziativa a favore del cartellino rosso per incamerare qualche soldo che serve per i malati e per le loro esigenze. C'è anche l'amico Lorenzo Stocco con una novità. Ciao a tutti, la novità parte sempre da Como. Grande tifoso del Como, non potevamo che poteva nascere il 1907 in Cina, quindi anche a tavola siamo tifosi del Como. Ecco la grande novità di quest'anno da parte del Barcapecchio. Cercheremo di portare tutto il lago e la presentazione ufficiale sarà il 21 luglio e il grande hotel di Cadenaggio sulla terrazza. Grazie. Grazie. Grazie.